Buonasera, nel 2019 è uscito un mio libro con il titolo L'Olmo Grande. È stato un libro che è entrato nella collana Il Bosco degli Iscrittori, che è una casa farmaceutica che ha un comparto editoriale pubblica per dare voce appunto alla vita degli alberi. Ogni iscrittore, ormai ne hanno interpellati tanti, sono dodici mi pare per adesso, racconta la vita di un albero rispetto a quella che è la sua esperienza di vita e quelle che sono le realtà, diciamo, anche simboliche pensate dall'autore rispetto alla sua esistenza. Quella per me è stata un'occasione per riunire molti temi della mia scrittura e ho potuto in quel caso anche, lavorandoci con la dovuta calma, intessere anche diversi livelli appunto narrativi con delle parti di riflessione. Provo adesso a riassumere i temi principali di questo libro, poi magari approfondiamo in maniera diversa se ci sono delle domande. Parto da un dato di fatto che è fondamentale per la mia vita, perché l'industrializzazione della campagna, quando è arrivata lì dove io vivevo, alla fine degli anni Sessanta, ha fatto qualcosa di devastante. è arrivata, prima c'era stato, io vivevo in circa 8-10 anni, prima c'era stato, sì, l'arrivo di qualche macchina agricola, di qualche trattore, di qualche altra macchina per lavorare i campi, ma era stato, non aveva cambiato fondamentalmente quella che era la realtà della vita contadina, ma soprattutto quella che era la realtà dell'ambiente, perché l'industrializzazione manifatturiera era arrivata, era arrivata dieci anni prima, più o meno, la famosa Zanussi e poi altre, insomma, industrie importanti, e avevano attratto delle persone che cambiavano attitudini di vita, cambiava anche il modo appunto di rapportarsi con le famiglie, si era creata in un certo senso anche una ironica figura che veniva chiamata metalmezzatro, cioè di colui che lavorava, diciamo, le otto ore in fabbrica e poi le altre di luce che restavano, il sabato e la domenica, si dedicava al lavoro dei campi. Sostanzialmente, insomma, in questi dieci anni, in cui era cambiata l'economia molto, era cambiata molto anche la relazione proprio interna tra le persone del paese, vi sto riferendo a una piccola comunità di un paese, ma di una realtà poi, diciamo, di insediamenti dove un paese era legato all'altro da pochi chilometri di distanza, da una continuità anche di case, di fattorie, insomma. La pianura, la bassa friulana, è uguale a tante parti, diciamo, della pianura padana, della realtà veneta e via probabilmente fino anche all'area romagnola. Quello che ha provocato questa industrializzazione delle campagne è stato anche non solo modificare il modo di lavorare i campi, ma è stato anche incidere sulla realtà ambientale per rendere i campi disponibili a una cultura intensiva e senza sprecare un metro quadro di terreno. di chi ha significato chiudere, interrare i fossi, livellare, strappare via boschine, canneti, acque meravigliose che scorreva da tutte le parti, insomma, quello che era per me, che era stato, che era visibilmente una specie di piccolo paradiso fatto appunto di acque, di erbe, di animali, la famosa bella famiglia di erbe animali di cui parla Foscolo e diciamo anche una cosa in più, che oltre a spazzar via appunto e a livellare, a tirar via dritto tutto quanto e farlo sparire, arriva un grande silenzio. Arriva un grande silenzio del cielo, prima di tutto, perché mettiamoci insieme anche i diserbanti, spariscono una varietà di uccelli strepitosa e spariscono una varietà anche di animali, ma con loro sono spariti chiaramente tutti quegli alberi, tutta quella vegetazione, tutta quella realtà che era fatta di natura e di lavoro umano, anche laddove sembrava più selvatico c'era la cura, perché c'erano quelle essenze, quegli alberi, c'erano quegli alberi che dovevano servire per fare gli attrezzi, per aiutare nel lavoro dei campi. Ecco, tutto questo scompare, accompagnato anche da certi aspetti, e lo ricordo senza vergogna, da un'euforia del disastro, da una volontà distruttiva. Perché? Perché chiunque aveva provato a zappare chiaramente per qualche ora di fila sotto il sole a giugno, scopre che quando finalmente arriva il diserbante, una palata in più, chiaramente non disdegna di mettercela, perché l'incubo della zappa si allontani. Tutto questo però determina un mutamento del terreno di vita, un mutamento dell'ambiente talmente forte che non diventa soltanto un mutamento, diciamo, nelle cose intorno a noi, diventa un mutamento anche nei rapporti. Perché da un lato c'è un cambiamento di società. Una prima generazione che va in fabbrica, una seconda generazione che accede agli studi, agli studi superiori. D'altra parte non c'è più il tessuto simbolico, non c'è più il tessuto di un ambiente ricco di risonanze anche, di memoria, di tradizione che può tenere insieme e a questo punto quello che nella civiltà contadina era comunque una solidarietà obbligata, certo, ma era una solidarietà, era stare insieme. C'erano rancori, amori dentro il tessuto, diciamo, della contrada e della famiglia, poi si trasformano in egoismi, solitudini, insomma, cambia quello che è stata definita, insomma, cambia tutto, quello che è stata definita da, per Paolo Pasolini, anche una mutazione antropologica. E effettivamente è avvenuta. Cosa metto al centro di questa devastazione? Al centro di questa devastazione metto un signore che sopravvive alla devastazione, uno tra i pochi, un olmo. L'olmo grande che dà il titolo al libro. Questo olmo cresce e diventa, proprio dopo che ci sono livellati e sono spariti gli altri alberi intorno, diventa un landmark, come si dice, diventa un punto di riferimento visivo per tutta la contrada. Tu passi per il ponte, sopra il fiume, vedi là in fondo l'albero. Tu passi per le campagne, vai sull'argine, vedi l'albero. Insomma, è in fondo ai campi di casa mia e lì, o chiaramente nel libro, si intrecciano anche le vicende familiari, perché questo olmo, comunque per tutti, è qualche cosa che si vede, si percepisce come ancora un'anima, diciamo viva, della contrada. Arriva la malattia degli olmi, la grafiosi, e l'olmo se ne va. La sua assenza è importante per la memoria, in fondo quanto lo era la sua presenza, ma in maniera diversa. La sua assenza crea appunto delle dimenticanze ulteriori, crea ancora delle difficoltà a trovarsi a casa propria, nel proprio ambiente. Allora cosa viene fuori? Dall'intreccio, insomma, delle narrazioni che vengono, delle riflessioni che c'è nel libro, viene fuori che in fondo anche gli alberi, vado al succo, insomma, anche gli alberi sono cresciuti in simbiosi con l'essere umano. Anche gli alberi fanno parte, non solo fanno parte del paesaggio antropizzato, ma sono la parte della vita, del lavoro, dei simboli, dell'uomo, e in fondo, riflettendoci, fin da sempre, fin da sempre, fanno parte della sua civiltà, della sua memoria e anche probabilmente di un segno di vitalità e di presenza al quale non si può rinunciare. Teniamo conto, quello che ci differenzia soprattutto dalle piante, dagli alberi, è la percezione di un diverso tempo, nostro e loro, ma non è che non hanno un tempo, non è che non hanno una vita, non hanno un movimento sopra e sotto le radici. Noi siamo oggi appassionati tutti di alberi, c'è anche chi li va a abbracciare, eccetera, eccetera. Da una parte, appunto, c'è addirittura, beh, questa sì, l'abbiamo imparata dal Settecento, che la impariamo attraverso l'arte e le arti, c'è una soddisfazione estetica. Noi guardiamo al mondo delle piante, degli alberi, perché sono belli, sì, sono belli. Dall'altra parte, c'è una cultura, un istinto che abbiamo coltivato, che è un istinto ecologico, cioè l'idea che in fondo gli alberi vanno tutelati, preservati, eccetera, eccetera. Beh, io direi che ci vuole qualcosa di più. Io direi che non si tratta, un atteggiamento, quando parliamo di ecologia, io direi che non si tratta di salvare la natura, ma si tratta di fare un nuovo patto con la natura, che la realtà umana, la società umana, gli esseri umani devono fare per salvarsi insieme con la natura. Certo, non bisogna dimenticare, questo sarebbe sciocco, che la natura ha degli aspetti violenti, difficili. L'essere umano è un animale, di fatto, è un animale meraviglioso, è un animale parlante, ma un animale fa parte di una catena alimentare o comunque se non è per se stesso che diventa vegano, farebbe parte di una catena alimentare per gli altri. Quindi, l'elemento di violenza che c'è nella vita non lo si può dimenticare. Che l'uomo poi abbia in sé anche questa caratteristica, non si può scordare che poi la natura mi voglia morto, anche questo, giustamente, per ragionare con leopardi, non dobbiamo tenere conto, ma per salvare l'umanità, per salvarci con l'umanità, abbiamo bisogno del mondo che ci sta intorno, non possiamo vivere senza quel mondo che è cresciuto, che è concresciuto insieme all'uomo, che si è modificato insieme all'uomo. E nella vicenda delle civiltà storiche, cioè quella che per me, per me che non ci ragionavo prima, è stata una scoperta, è che c'è una storia. Sembra che le piante siano ognor verdi, per dire, per usare ancora leopardi, che comincino sempre da zero la loro storia. Non è vero. Le piante hanno una storia che si evolve con le civiltà umane. Questo è molto importante e altrettanto vale per gli animali e solo andando a fondo con questo pensiero, secondo me, si può ragionare in termini ecologici in modo più concreto e completo. Teniamo conto che stiamo perdendo, abbiamo perduto ormai, un patrino, già lo notava ancora, scusate, ma Leopardi in questi ragionamenti è fondamentale, già Leopardi quando la famosa canzone ad Angelo Mai a un certo punto capisce che la scoperta del mondo che si va, la razionalizzazione del mondo e la potenza che ha l'uomo sul mondo attraverso appunto le nuove macchine riesce a imporsi sulla realtà ambientale e dice una cosa tremenda, dice no, in breve carta, or, or, oggi, in breve carta è figurato il mondo e scoprendo solo il nulla si crea. Oggi noi non siamo così forse pessimisti ma stiamo attenti. Non è il nulla ma l'impoverimento della nostra vita da un punto di vista simbolico sta raggiungendo un limite massimo che è il limite di identificare la nostra stessa immaginazione, i nostri stessi sentimenti con i trailer della pubblicità dei consumi. Ecco, questo è un limite secondo me vero sul quale dobbiamo riflettere. Dobbiamo pensare che e dobbiamo guardare con occhi diversi il mondo degli alberi, il mondo degli animali, la realtà ambientale che ci confronta perché è l'unica maniera veramente per avere ancora dei pensieri, per avere ancora dei sogni. Io chiudo qua e mi sembra ringrazio che mi ascolti il dato e se qualcuno ha qualche domanda sono a disposizione. Bene, se mi sentite ringrazio davvero molto per questo splendido intervento il dottor Villalta, io ho raccolto due domande sicuramente di suoi lettori o di qualunque credo che queste due persone abbiano letto sicuramente l'olmo grande. La prima è molto generale, leopardiana diciamo come domanda perché chiede è una riflessione e forse chiede anche a lei una riflessione un po' ha già risposto. Mi si chiede è la natura essere crudele oppure siamo noi a essere crudeli nei suoi confronti? Lei un po' ha già risposto. ma approfondirei perché è un tema sul quale sto anche ancora ragionando perché di fatto l'essere umano noi abbiamo un portato di memoria di cultura ma che è dentro le nostre stesse parole dentro il nostro stesso pensiero che viene da millenni nel corso dei quali abbiamo dovuto difendersi dalla natura abbiamo dovuto rapinarla per sopravvivere il nostro atteggiamento predatorio nei confronti della natura è lo stesso che aveva la natura cioè è la nostra risposta all'atteggiamento della natura nei nostri confronti e ripeto da questo punto di vista è vero che non so meno sprechi è vero che meno inquinamento tutto questo è necessario ma sarà necessario mettere proprio la terra la nostra esistenza terrestre con quello che può avere non avere di divino quello lo lascio ad altri la nostra esistenza terrestre al centro proprio dei nostri pensieri delle nostre azioni c'è un problema ma c'è un tema fondamentale per questo parlavo di simboli di sogni anche perché è quello che dobbiamo mettere in conto cioè la natura mi ha programmato per morire e ha fatto lo stesso con le persone che io amo sfortuna vuole che a volte addirittura questi brutti ceffi muoiano prima di me causandomi un dolore tremendo allora allora lo dico ridendo perché non si può insomma non voglio mettermi a piangere qui in questo momento allora no e questa cosa dobbiamo per quello dico dobbiamo immaginare un nuovo patto perché questa cosa dobbiamo far diventare cultura senza pensare che la natura è crudele perché la natura è la stessa per tutti per tutti gli esseri viventi la natura è la stessa quindi con leopardi e un po' contro leopardi è vero quel che dice leopardi però non abbiamo alternative e se rispetto a leopardi togliamo l'uomo dal suo centro usciamo dal famoso antropocentrismo ma non scioccamente per mandarci su urano ma ci mettiamo tutti insieme noi con i viventi e lì si può immaginare un lavoro della cultura per elaborare una nuova simbologia che non ci toglie la morte ma ci dà quei simboli forse anche dei riti delle forme di comunità che ci permettono di immaginare una vita della specie che ha anche la morte al suo interno grazie c'è un suo lettore che pone un altro quesito le chiede una riflessione e dice crede che questa pandemia abbia insegnato a guardare gli alberi e il verde e non solo a vederlo oppure no credo che qui si giochi su guardare l'albero vedere l'albero di cui lei parla nel suo nel suo volume anzi ci vuol dire anche qualcosa su questo sì è una pagina del libro perché io gioco poi si potrebbero anche rovesciare insomma tra guardare vedere vedere guardare ma perché più si pone al centro su un aspetto più su un altro insomma diciamo che perché guardare dallo sguardo potrebbero essere anche rovesciati i termini ma non è su quello che ci soffermiamo è che sono due atteggiamenti fondamentali insomma uno quello che vede secondo quello che ha già in testa è uno che invece quando vede comincia a guardare o viceversa quando guarda comincia a vedere e da lì vede qualcosa che non ha visto prima comincia a indovinare delle relazioni comincia a indovinare il fatto più semplice del mondo che mentre ogni sguardo ogni domanda che ha uno sguardo intenziona una risposta dà il senso dalla risposta che viene ma a sua volta questa intenzionalità chiede qualcosa a noi allora sentire questo ritorno di intenzionalità secondo me non vale soltanto per gli esseri umani vale per tutto quello che ci circonda e rispetto diciamo agli oggetti alle cose i viventi hanno risposte più ampie più forti perché apparteniamo alla stessa razza i viventi e lei crede che alla luce di questa pandemia il nostro rapporto con il verde con gli alberi così sia in qualche modo modificato e diventato più profondo oppure no oppure tornerà tutto come prima oppure non so mi perdoni avevo dimenticato mi perdoni mi perdoni avevo dimenticato la domanda vera e propria nel senso che io sulle modificazioni diciamo del pensiero degli atteggiamenti umani creati dalla pandemia ho i miei dubbi credo che siano delle chiacchiere che si diffondono non siamo usciti migliori mi sembra st'estate non usciremo migliori forse ecco forse forse chi ha avuto e ha sfruttato meglio non tanto di guardare di star fuori e di prestarsi il cane per andare a passeggiare per poter uscire insomma chi ha avuto modo e necessità anche per ragioni di solitudine che a volte fa bene in realtà fa sempre male ma a volte fa bene di riflettere di pensare un po' di più di immaginare che proprio nel momento in cui avevamo raggiunto il famoso antropocene cioè l'epoca del dominio dell'uomo sulla terra su tutti i viventi eravamo diventati la specie dominante ecco che e qua veramente Leopardi torna in ballo qualcosa di assolutamente così invisibile e poca cosa no? Un quasi niente come un virus mette tutto quanto il mondo in ginocchio ecco se pensiamo questa cosa pensiamo anche che insomma tutto quello che ci ha spinti fin qua per certe vie non tutto ovviamente non mi sognerei neanche dire che è da buttare via tutto ma anzi abbiamo tanto di bello tanto di importante però bisogna cambiare tendenza cioè non si termina a cominciare secondo me veramente da come pensiamo il lavoro la produttività il riscontro economico tutte queste faccende qua secondo me è l'ora ci sono dei grandi cicli dell'umanità il grande ciclo del progresso che ha al centro un'economia di sfruttamento diciamo credo sia arrivato a un punto di non ritorno si sente parlare di un'altra economia di economia circolare di cura del pianeta e forse è l'ora veramente di fare un passo decisivo su questa via poi c'è un'ultima riflessione di un ascoltatore che ci ha chiesto se lei può commentare il fatto che come l'albero ha le sue radici l'uomo in età adulta ha bisogno di tornare alle sue radici e lui fa l'esempio proprio di chi non so lavora in città e nel periodo della pensione ama ritornare nel luogo in cui è nato magari in montagna in campagna e vuole un'opinione un'osservazione su questo su questa riflessione da parte sua se può fornircela insomma se ci può essere questa similitudine ho cercato ho cercato in questo libro e anche in un altro della verità di raccontare la figura dell'arbero inversa cioè dell'albero che ha appunto le radici nel cielo questa è una metafora spirituale teologica che fa immaginare l'uomo è bella perché utilizza l'albero ma è sbagliata secondo me perché fa immaginare l'uomo poco attaccato a terra invece noi siamo attaccati a terra anche se ci spostiamo siamo attaccati a terra profondamente e capisco che con il tempo sia la nostra la nostra mente il nostro cervello funziona così con il tempo diventano meno importanti le cose presenti meno presenti nella nostra memoria e prendono volume di importanza simbolica e spazio dentro la memoria peso dentro spazio peso dentro la memoria le esperienze dei primi anni di vita della giovinezza che sono quelle formative che sono quelle che ci hanno costituito per quello che siamo anche perché da un certo punto in poi diciamo la nostra vita si evolve per catastrofi mentre per un primo è abbastanza a lungo tempo cresciamo come alberi in un certo senso cioè nutriendoci e sviluppandoci accumulando appunto l'infe gettando polloni del nostro essere insomma sviluppandoci verso la luce quel che vuole lei da un certo punto in poi entriamo in una specie di noi stessi compiuto e solo le tempeste e solo le belle piogge ristoratrici perché c'è anche del bello nella vita sono significative il resto passa via un giorno più o meno e l'altro quasi detto tutto questo io credo che da un lato sì le radici le portiamo sempre con noi però quello che ma non lo dico solo io è una cosa contemplata dalla filosofia oltre che dalla psicologia il momento in cui formiamo noi stessi è il momento in cui noi diciamo ci rapportiamo direbbe un filosofo tedesco con l'Humwelt cioè con l'ambiente che ci sta intorno e l'io il nostro stesso essere noi stessi si costituisce anche da un punto di vista proprio dell'estetica che ci porta ciò che è bello l'idea di ciò che è bello l'idea di ciò che è conforme di ciò che ci parla c'è una bella poesia di Luzzi che dice a un certo punto quell'erba se potessi per me sarebbe di tornare la brucherei so che è impossibile brucarla e so che è impossibile perché è impossibile tornare indietro però dice questo è il sentimento primario che mi ricordo questa idea di consonanza assoluta con le cose che vivono per un certo periodo poi con il tempo c'è uno spiadimento di questo rapporto senz'altro e allora direi che sì viene spontaneo l'idea di un ritorno nella mente o anche nella pratica e non si perda questa occasione per non per coltivare vaghe nostalgie ma per creare una propria stagione una nuova stagione della propria vita la propria stagione la propria stagione è un'estima di un'estima di un'estima